Salve a tutti amici e ben trovati, non durerà più di tanto questa piccola ondata di caldo che concentra comunque i suoi effetti soprattutto al sud e su parte del centro. Il tempo per quanto riguarda la giornata di giovedì sarà sempre un po' disturbata all'estremo nord-ovest dove potrà cadere qualche pioggia, qualche isolato temporale, soprattutto sulla fascia alpina, sul resto d'Italia probabilmente quella di giovedì sarà la giornata più calda con temperature che se le andiamo a vedere si avvicineranno anche attorno ai 30 gradi sulle pianure del nord, forse addirittura qualche cosina di più magari sulle zone interne del centro-sud temperature comunque tipicamente estive. Per quanto riguarda la giornata di venerdì invece arriva un primo fronte temporalesco che porterà un peggioramento del tempo su gran parte del nord del centro e sulla Sardegna e nella giornata di sabato si sposterà al sud e sul resto del centro mentre il tempo dovrebbe tornare a migliorare un po' al nord dove le temperature poi dopo una diminuzione che si avvertirà nella giornata di venerdì torneranno un po' a salire nella giornata di sabato. Per adesso è tutto amici, grazie per essere stati con noi e più tardi.